Il premio per il migliore spettacolo di prosa, chiamo il Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro. Buonasera Presidente, io ho saputo c'è stato un recente sondaggio e non so se lei lo sa, lei è il terzo Presidente di Regione con il maggior gradimento in Italia. Ma intanto i sondaggi fanno sempre piacere quando si sta in alto, sono un po' come le montagne russe, quindi mi auguro che in un momento difficile si apprezzi lo sforzo e il lavoro di risolvere i problemi, però consideriamo sempre le montagne russe, siamo sempre sotto giudizio. E' uno che non ama apparire, è sempre un po' restio, un po' la scuola del suo partito, del suo Presidente, tenersi un po' sempre dietro le quinte, ma andare avanti gli altri, è un po' la lezione del dottor Bandana. Il miglior spettacolo 2012 è... The Cost of Utopia. The Cost of Utopia. Michela. Grazie. Grazie, buonasera.